Questo vuole essere anche un po' il simbolo della ripartenza dopo questa pandemia, quindi nel segno appunto dell'ambiente e nel segno di una ripartenza che garantisca un maggior comfort a chi prende il treno. È partito da Firenze ed è arrivato alla stazione di Arezzo, qui l'inaugurazione ufficiale del primo treno ROC alla presenza dell'assessore ai trasporti Vincenzo Ceccarelli. Questo è uno dei primi due treni ROC che ci sono stati forniti e sono entrati in servizio. Fa parte di un complessivo di 100 treni nuovi che verranno forniti alla regione toscana in virtù del nuovo contratto che abbiamo siglato da qui al 2023, portando l'età media della flotta a 7 anni. Quindi avremo una delle flotte di treni più giovani d'Europa. L'importanza di questo treno è anche nella sua struttura. Intanto è un treno che parla toscano perché è stato completamente costruito all'ex Breda di Pistoia, attualmente Itachi. È stato certificato dal Certifer che è un ente certificatore toscano ma soprattutto è un treno molto comodo. Si può vedere ad iniziare dalla larghezza delle porte che consentono un'entrata e un'uscita molto facilitata ad iniziare dai diversamente abili. È un treno ecologico perché consuma il 30% di energia in meno dei modelli precedenti perché è riciclabile al 97% con dei materiali con cui è stato costruito. È un treno sul quale si può utilizzare internet, c'è la possibilità di agganciarsi all'energia elettrica con gli spinotti che sono presenti in ogni postazione. È un treno che ha una toilette che è attrezzata per il ricambio dei pannolini per quanto riguarda i bambini. Ha 600 posti, quindi una grande capacità, due piani ma con rampe di accesso al secondo piano che sono molto comode. Poi ha maggiori spazi tra un sedile e l'altro rispetto a quelli precedenti. Quindi toscano, ecologico e molto comodo.